ed eccoci qua ragazzi a 5 ore 32 dall'uscita di starfield il gioco quindi uscirà alle due del mattino di domani e a cosa serve questo video questo video serve perché sono uscite comunque le recensioni e ci sono un po di opinioni che volano in giro per la rete il metacritic metascore di starfield per adesso è intorno all 87 barra 88 a seconda della versione pc xbox però ci sono state un bel po di critiche in particolare sull'esplorazione spaziale allora io vi dico cosa farò domani io domani cercherò con tutte le mie forze di farvi due video uno sulla inizio della avventura perché ho visto un po di anteprime un po di video recensioni italiane essere eccetera eccetera ma non ho visto nulla del gameplay quindi sarò assolutamente blind soprattutto nell'inizio per l'inizio la prima ora non ho idea quindi comunque secondo me sarà un video interessante da condividere quindi l'inizio è l'esperienza iniziale dopo di che a seconda di quante ore riesco a metterci dentro spero almeno 7 8 se non di più di farvi anche addirittura una prima impressione per domani sera questa è la mia il mio target se non riesco a metterci però almeno 7 8 ore rimandiamo di un giorno e ve la faccio il giorno successivo quindi sabato non c'è nessun problema almeno intorno alle 7 8 ci vorrei arrivare per avere una primissima impressione in realtà questo lo ve lo dico perché comunque da quello che ho potuto capire effettivamente questo gioco anche se il voto 87 alto ha avuto un bel po di critiche anche nei voti positivi e in realtà proprio nei punti che immaginavo potessero essere deboli perché se avete seguito un po tutti anche i miei video che ho fatto su starfield non ho mai nascosto la mia il mio pregiudizio quasi rispetto a questo videogioco nel senso immagino immaginavo e comunque ancora immagino che possa essere un decisamente buon gioco ma non probabilmente un capolavoro quindi è sempre un gioco bethesda per quanto possa essere pulito e polish tutto quello che volete il loro dna è quello e da quanto potete intuire effettivamente questo è più un fallout nello spazio con una grossa impronta di fallout in particolare fallout 4 quello più action un po meno gdr ecco a me fallout anche questo l'ho ripetuto qualche volta non è certamente il mio fallout preferito anzi il mio sfavorito il mio favorito è quello che non ha fatto bethesda cioè las vegas new vegas perché molto più incentrato sulle scelte la parametria e l'importanza delle scelte questo effettivamente da quanto ho visto sembra un fallout con gli steroidi comunque decisamente grandissimo ripulitissimo anche però su quella falsa riga di fallout nello spazio e l'esplorazione spaziale anche per come l'hanno posta molti nelle loro recensioni sembra essere un po meno interessante di quello che è stato un marchettizzato ovvero che questi mille pianeti potessero essere tantissima quantità però tanta anche ripetizione anche grazie o per colpa della proceduralità con cui sono stati creati tutti questi pianeti ne abbiamo parlato anche in un altro video non sono totalmente random c'è una base fissa più tutti i punti interessi fatti a mano ma poi c'è un riempimento diciamo così procedurale dei pianeti a livello di fauna flora o di quest secondarie eventi casuali eccetera eccetera quindi sembrerebbe sempre parliamo al condizionale dato che non ci ho messo ancora io stesso le mani che comunque abbiano un po' preferito la quantità e l'effetto wow piuttosto che magari la cura nei singoli pianeti e nelle singole situazioni comunque vedremo questo è un gioco molto molto importante per bethesda e soprattutto per microsoft perché è il loro gioco flagship non solo di quest'anno ma proprio di questi anni di lancio della nuova console ma in generale anche del sodalizio che hanno fatto con bethesda e adesso a breve anche con activision blizzard quindi insomma la nuova xbox la nuova microsoft per loro questo gioco estremamente importante come detto 87 anche un voto abbastanza alto però effettivamente non sembra quello sconvolgente capolavoro che magari molti auspicavano tra l'altro su internet c'è la diatriba infinita c'è quelli che gli danno merda gli hanno dato merda senza saper nulla a prescindere quelli che lo stanno idolatrando a prescindere le vie di mezzo sembrano difficili da concepire per alcuni comunque ragazzi domani lo proviamo domani lo proviamo e mi assicuro che quando ci metterò su quelle 8 10 ore già una prima impressione sarà importante perché in quelle 8 10 ore già si vedrà bene quanto questa impronta di bethesda su questo gioco sarà stata innovativa oppure molto derivativa magari appunto da questo fallout 4 che viene riecheggia diciamo così nell'aria comunque ma domani ragazzi analizzeremo bene e con calma tutto sia nei primi 45 minuti a prima oretta di gioco che poi eventualmente se riesco come detto in questa prima impressione 8 10 ore insomma ci saranno già elementi secondo me significativi da prendere in considerazione detto questo siamo a 5 ore fatemi sapere ragazzi se lo giocherete subito alle due di notte oppure no oppure magari non vi interessa neanche starfield se siete qui solo per i pop corn oppure magari lo giocate al 6 settembre oppure lo giocate come me da domani mattina perché in realtà io c'ho una certa età ormai di farmi la nottata alle due di notte non credo proprio magari viazzo a 8 e mezza domani mattina in serenità ci spariamo una decina di ore boom 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 e poi appunto se riesco a farle vi farò anche una prima impressione e ricordatevi che io non ho peli sulla lingua quindi insomma tutto quello che penserò lo dirò senza problemi detto questo ragazzi vi saluto voglio semplicemente condividere un attimino queste mie prime impressioni tra virgolette guardando insomma recensioni voti e poi anche le cose che ho visto ovviamente per i fatti miei e fatemi sapere anche voi se avete un po sbirciato un po prima di giocare oppure no detto questo ci vediamo domani probabilmente per due contenuti su starfield grazie per l'attenzione e una buona serata arrivederci ciao ciao